La scuola API ha quattro uniti di scuola. La scuola ha preso tre uniti di informazione che mi ha avuto un po' di lati. E' un po' di difficoltà con la produzione di un roaster. E' un roaster, ora, tra l'anno normalmente. Ci sono due uniti e uniti che sono necessari per adattarsi a base di input di docente. Qualche leader di una scuola ha fatto una grande sala per me viaggare. E' un po' di difficoltà in cui ho avuto un ciclo. In un caso che ho avuto un cibo, i docenti hanno un giro in scuola e non ho avuto un errore che voglio corregire e, in due sti, ho avuto un deseo di un maestro che voglio portare un po' di scuola. In un caso specifico, qui ho avuto un tempo diretto di scuola a scuola. Per usare come base un roaster di anni anteriore. Per tre e quattro uniti che significa che non è un po' di dry, ma che ho avuto un differente cose che non è quattro. A riconoscere sei, a pide il docente di cooperazione, che ha donato questo weekend di direzione a produzione di un roaster nuovo. E' un'unica, questa è un'unica con l'hospitalia e il turismo, c'è un'unica con l'hospitalia. Non c'è un'unica con l'hospitalia americana, come si può comprendere. e non c'è un'unica con l'hospitalia, come si può comprendere. E' un'unica con l'hospitalia è una forma di direzione di un altro nivell, ma che non c'è un'unica con l'hospitalia. Non c'è un'unica con l'hospitalia. Non c'è un'unica con l'hospitalia, ma che si è un'unica con l'hospitalia, e l'alumno che aveva un processo primario di noi. Decidì che riconosce a trovi, che ero usato qui non portato con noi, e non aveva un caso di un'unità che si portato, adattava questa regola per il cambio. E ora abbiamo deciso per una buona marcha, e non abbiamo un start falso per organizzare due giorni, che si tratta con le due giorni, e mi stai con le direcci con i docenti, che stai senti a spiegare, e stai dando feedback. E mi stai con un giorno, e l'intenzione è che ero usato qui, che mi stai con il lavoro adattare, e di due giorni c'è un problema, e un docento non portato in bilistro di, e stai molto indiferente, un altro lavoro, che normalmente non mi sono a Cibanda, ci sono entramo qui, entro a poco, i gruppi sono stelle, ma compro di parte di stagio, per i prefeitori, ci sono riempiti anche per assinare con i alunni, con il processo primario, questa educazione di hobbensi. E mi chiede che ci sono qui, ci sono le cose più importanti, nonostante le differenze di opinione, perché ci sono in terreno laboral, in questo caso, ci sono entrati un gruppo di unit managers che in questo caso, è bevochato a queste persone, le persone, le persone, le persone, le persone.